Buongiorno a tutti, come promesso in questo breve video tutorial vi mostrerò come è possibile procedere al pagamento delle formalità attraverso la piattaforma Pago.pia, entrata in vigore proprio oggi, primo dicembre. Quindi il video diciamo che è dedicato a tutti coloro che non hanno aderito ai servizi offerti dai vari poli telematici quali Sermetra, Isaco, Stanet e via dicendo, oppure a coloro che nonostante l'adesione dovessero riscontrare problemi nel pagamento e volessero quindi procedere in maniera autonoma al pagamento delle formalità. Bene, la prima cosa da fare quindi è entrare nel portale ACI e come potete vedere tra le varie voci del menu è stata inserita quella relativa alla gestione avvisi pagamento. Cliccando non dovremo far altro che inserire nuovamente le credenziali che poi sono le stesse del portale e che io per comodità ho salvato. Qui nel menu a sinistra è possibile ricercare le lavorazioni delle pratiche effettuate nel giorno antecedente al pagamento. Nel nostro caso specifico andremo a ricercare quindi le formalità presentate il 29 novembre, ovvero venerdì. Ci verrà mostrato quindi il totale dell'importo da pagare e l'aggregato dell'avviso di pagamento, che vi consiglio di copiare perché ci tornerà utile nella fase successiva. Adesso a solo scopo illustrativo vi mostrerò che cliccando qui sulla lente di ingrandimento è possibile visualizzare il numero delle pratiche lavorate con il totale da pagare e l'elenco dei singoli avvisi di pagamento. Per procedere al pagamento di questi avvisi non bisogna far altro che entrare nella sezione vai a pago pa e andare ad incollare l'aggregato che avevamo precedentemente copiato. Quindi cliccando su continua ci verranno mostrati quelli che sono gli importi da pagare. Per procedere quindi al pagamento delle formalità è necessario cliccare su una singola voce. A questo punto i metodi di autenticazione proposti dal sistema sono due, ovvero quello di accedere attraverso lo speed e quello di entrare attraverso l'indirizzo email. Per entrare con l'indirizzo email è necessario però prima registrarsi sul sito pago pa cosa che comunque vi consiglio di fare in quanto la procedura di accesso attraverso la mail è molto più snella rispetto a quella con lo speed. Comunque sia andiamo adesso a vedere come accedere con lo speed e cliccando troviamo i varienti che offrono questo servizio tra cui il più utilizzato da tutti noi è sicuramente poste italiane. Quindi in questa nuova schermata non dovremo far altro che inserire quelle che sono le credenziali per entrare solitamente nel sito di poste italiane. A questo punto per procedere all'autenticazione di secondo livello il sistema richiede l'approvazione attraverso smartphone. Di fatti cliccando su prosegui apparirà il messaggio di controllare il nostro smartphone dove troveremo una richiesta di autorizzazione che ci permetterà di effettuare l'autenticazione attraverso Face ID o Touch ID. Effettuata l'autenticazione saremo automaticamente renderizzati sul portale dove dovremo cliccare su a consento per proseguire. A questo punto le tipologie di pagamento proposte vengono racchiuse in tre macro categorie che sono quelle della carta di credito, del conto corrente e degli altri metodi di pagamento utilizzando lo smartphone. Esaminiamo la prima, ovvero quella della carta di credito nella quale non bisogna far altro che inserire quelli che sono i dati della carta di credito ovvero il nome e cognome del titolare della carta di credito il numero della carta composto dai 16 caratteri la data di scadenza e il codice di verifica che troviamo sul retro della carta Inseriti i dati cliccando su continua il nostro pagamento sarà effettuato La seconda categoria è quella riservata al conto corrente dove il sistema ci propone il pagamento attraverso le banche attualmente convenzionate che sono iConto, Intesa San Paolo, attraverso il pago in conto, la carta di credito, MyBank o il circuito Emilia Romagna Possiamo scegliere una di queste categorie se appunto siamo correntisti di Intesa San Paolo l'ultimo servizio di pagamento è quello riservato ai pagamenti attraverso lo smartphone e anche qui ritroviamo Intesa San Paolo che offre i servizi attraverso Paypal abbiamo iConto, Bancomat Pay e Satispay come potete osservare sia in questa categoria che nelle precedenti su ogni tipologia di pagamento è specificata la commissione massima applicata attualmente la più conveniente risulta quella di Satispay che pare abbia un costo di 0€ analizzate le tre tipologie di pagamento offerte dalla piattaforma PagoPà c'è da dire che ne esiste un'altra, secondo me molto valida in quanto va a bypassare tutte quelle che sono le richieste di autorizzazione che effettuiamo attraverso lo smartphone nel mio caso la banca di riferimento e di cui sono correntista è la Biper e a solo scopo illustrativo andrò a mostrarvi quella che è la sezione dedicata al pagamento dei bollettini C-Bill quindi accedendo al mio Home Banking e andando nella sezione pagamenti troverò la voce C-Bill C-Bill pagamento qui è dove posso effettuare i pagamenti delle formalità semplicemente inserendo nel campo azienda AC che è comunque identificato con il codice B041S nel codice utenza andrò a inserire il singolo avviso di pagamento nel campo importo l'importo da pagare in questo caso 45,50 e andrò a ricercare il bollettino a questo punto non resterà che confermare il pagamento e nel mio caso non dovrò far altro che inserire il codice OPT che trovo sul mio token inserito il codice cliccherò su continua e il pagamento del bollettino risulterà in carico alla banca e quindi adesso se volessi accertarmi che il pagamento è in corso non mi resta altro che tornare nella sezione vai a pago PA inserire l'avviso di aggregamento e tra l'elenco delle formalità come vedete la pratica risulta automaticamente già pagata non mi resta